Salve, salve, benvenuto. Oggi faremo la sua visita di controllo per la vista. Si metta pure comodo, io sono il dottor Luca, piacere, piacere. Non è mai stato qui da noi, vero? Mi sembrava, mi sembrava, ha lasciato tutti i suoi dati alla reception, tutti i dati di contatto sui riferimenti. Si, ottimo. Mi dica pure cosa la porta a fare questa visita, ha avuto qualche problema, ha rilevato qualche calo della vista o qualche disturbo di visione? Forse un lieve calo? Ok, mi dice gentilmente la sua età. Ok, ok. Hanno certo comunque anche normale iniziare a percepire un lieve calo, ma lo testeremo. Per quanto riguarda disturbi di visione, magari eventuali offuscamenti o come delle sfocature durante la normale visione o la lettura? Non ha fatto caso. Va bene, ma facciamo un controllo totale della situazione anche della sua vista periferica. Perfetto. Allora, per quanto riguarda il calo della vista, mi è sembrato fosse maggiore da un occhio rispetto all'altro oppure equivalente. Ok, ok. Allora, per accertarcene faremo una lettura di questa tabella. Le chiedo gentilmente di coprirsi prima un occhio, poi chiuderemo anche l'altro. Quello che preferisce. Cominciamo con il destro. Ok. Sì, 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 la distanza è perfetta. La sua poltrona è già posizionata dalla giusta distanza dalla tabella, in modo tale da poter verificare se sono presenti dei problemi di vista, se ha avuto un calo. Perfetto. Allora, copra pure l'occhio sinistro a questo punto. Ok. Allora, la prima sicuramente non avrà grandi difficoltà, questa qui. Perfetto. Perfetto. D'altronde si rileva solo un lieve calo della vista. Questa sicuramente doveva vederla. Ora direi di provare con questa qui. Riesci a identificarla? Ottimo, una T. E cosa mi dice invece di quest'altra? Questa qui? Perfetto. Sì, sì, sì. Iniziamo ad andare sul difficile. Qui probabilmente potrebbe non riuscire più a identificarla correttamente, ma insomma non c'è problema. Allora proviamo questa qui. Riesci a identificarla? Una L. Ottimo. E questa qui invece? Una D. Una D. È facilmente confondibile con una O, ma si tratta di una D. Quest'altra? riesce? Riesce? Ok. Su questa linea riesci a identificarne qualcuna? Non con chiarezza. Ok. Ok. Ma è normale. È normale, altrimenti non avrebbe percepito questo calo della vista. È normale. Ora copra pure l'occhio destro, così testiamo anche il sinistro. Ok. Allora partirei da questa. Perfetto, una O. Questa qui. Ottimo. Proviamo con questa. Non è sicuro tra una E e una F. Si tratta di una E. Si tratta di una E. E questa qui invece? Una Z. Ottimo. Ora proviamo questa qui. Una P. Una P. Riesci a identificare altre lettere su questa? Linea? Ok. Un pochino meglio rispetto all'altro occhio, ma anche qui in effetti non abbiamo una visione piena, ma come le dicevo è normale in questa fascia di età iniziare a percepire un lieve calo. Ecco, fin quando si tratta di un lieve calo è tutto nella norma. Ok. Perfetto. Ora andrei a fare un controllo della sua vista periferica. Mi diceva non ha fatto caso, insomma, non ha avuto modo di accertarsi. Non è certo. Va bene. Va bene allora. Ora le chiedo di puntare il suo sguardo sulla punta del mio naso. Io muoverò questa luce in modo tale da andare a testare la sua visuale periferica, la sua visione periferica. Quando lei non vede più la luce, perché esce appunto dalla sua visuale, me lo dice. Ok. Perfetto. Allora adesso glielo faccio fare con entrambi gli occhi aperti. Mi raccomando, guardando la punta del mio naso. e poi proveremo anche di nuovo coprendo l'occhio destro e poi l'occhio sinistro. Ok, allora guardi la punta del mio naso e vediamo. Ok. Bene. Bene. Perfetto. Mi raccomando, guardi sempre la punta del mio naso. Ok. Ottimo, ottimo. Ok, perfetto. Ora copra l'occhio sinistro, lo suo occhio sinistro, così testiamo il destro. Ok. Come prima, guardi sempre la punta del mio naso. Ok? Cominciamo. Ok. Bene. Bene. Ok. Ok. Ora copra pure l'altro occhio. Come prima. Come prima. qua. Ok. 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 Ottimo, ottimo. Molto bene. Quasi finito, eh. Ok. Ok. Ora con entrambi gli occhi aperti le farò invece seguire la luce. testa fissa 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 in avanti e muovendo gli occhi seguire la luce. Si dimentichi pure del mio naso. Ok? Perfetto. testa fissa fissa. Segui sempre la luce con tutti e due gli occhi. Ok. Va bene. rileva qualche difficoltà nel seguirla? No. Ok. Ottimo, ottimo. Ora si chiuda un occhio. perfetto. Perfetto. Continui a seguirla. Ok. Ora inverta. Così controlliamo anche l'altro. molto bene. Molto bene. Molto bene. Ok. Ottimo. Ok. Allora mi avvicino solo un attimo per controllare gli occhi. Così. guardi verso l'alto cortesemente. Ok. Ok. Vediamo quest'altro. Si, si, si. Sempre verso l'alto per cortesia. Ok. 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 e ora se guarda verso il basso. Ok. E. Si, direi che. Non dovrebbero esserci particolari problematiche. No. Direi che tutto a posto. sì. Come aveva identificato anche lei abbiamo un lieve calo della vista ma come le dicevo nella norma per il suo range di età. Per quanto riguarda invece la visione periferica non ho riscontrato particolari problematiche e anche un esame ravvicinato di entrambi gli occhi. direi che è tutto a posto. Forse una leggera secchezza oculare. Usa dei colliri o... no. Beh, se va in farmacia può semplicemente farsene dare uno a non medicato naturalmente visto che non ha problematiche. però, insomma, tolto questo piccolo dettaglio direi che è tutto nella norma. Assolutamente, assolutamente. Manderemo via email i risultati del suo esame. Mi diceva ha lasciato il suo indirizzo email alla reception quando è arrivato, corretto? corretto, ottimo. Perfetto. Allora direi che per questa visita abbiamo finito. Se dovesse riscontrare degli altri problemi non esiti a prendere di nuovo un altro appuntamento e vedremo cosa accade ai suoi occhi. Ottimo. Io le auguro un buon proseguimento. Arrivederci, arrivederci.